E fare carico è un'ottima notizia. E a me se mi buttano fuori da là, ne occupano altri dieci. Mi devono portare in galera, mi devono mangiare loro perché mi hanno stupato. A Roma il quartiere San Basilio è formato per lo più da palazzi di proprietà del comune, ma la maggior parte sono stati occupati abusivamente. Quanto tempo fa occupato, se posso chiederlo? Due o tre anni. C'è gente che sta in coda da anni nelle graduatorie e dice perché... Ma dove? Volete sapere quante case chiuse ci stanno? Qui, nella terra di nessuno, a regnare il degrado. Per le strade ci sono enormi buche e le facciate delle abitazioni stanno pian piano venendo giù. Nella capitale si calcola che su 76.000 case del comune, circa 10.000 siano occupate irregolarmente, con tutto quel che ne consegue. Qui è nata una discarica a cielo aperto, tra auto distrutte e abbandonate, rifiuti di ogni genere, ci sono sedie, materassi. Pochi giorni fa la polizia in questa zona ha sgomberato diverse famiglie e sempre qui sono stati trovati hashish, soldi e un bunker nascosto in un'abitazione. C'è sempre qualcuno che magari sta in esatta via, poi se ne va oppure si è mettato dentro qualcun altro. Gli interessi dei clan malavitosi sono stati messi in evidenza anche dalle forze dell'ordine durante diversi blitz. Chi ha bisogno di un tetto arriva a chiedere aiuto alla criminalità, che si appropria dell'appartamento vuoto e aiuta a occupare senza problemi in cambio di piccole somme versate mensilmente. Un racket in cui si muovono movimenti estremisti di destra e di sinistra che ogni anno, secondo l'Ater di Roma, porta via 40 milioni di euro alle casse comunali. Qui la finestra è stata murata per evitare che si torni ad occupare questa abitazione. Una volta che mi levi casa e non c'è lavoro, a dignità mia dove ho finito, io che posso fare? I reati, perché non mi posso morire di fame. Allora io non so se...